Dolci e caldi momenti da Qui Discount. Fino al 16 novembre trovi Latte UHT alta digeribilità 1 litro a 95 centesimi Tonno mare aperto in olio di oliva 60 grammi per 6 a 3,99 euro Stufa al carbonio Joytech 450 a 900 watt a 23,90 euro Asciugatutto MaxiRoll 1000 strappi 2 rotoli a 5,99 euro Dixani in polvere 84 misurini a 12,90 euro Praline e Plaisir du Chocolat 1 chilo a 6,99 euro Ci trovi a Sala Consilina, Atena Lucana Scalo, Polla, Teggiano e Caggiano Regione Campania, ok al terzo mandato per De Luca dal Consiglio regionale Contrario al PD nazionale, Movimento 5 Stelle e Centrodestra Ispani il prefetto esposito emette il decreto di scioglimento del Consiglio comunale Commissario Anna De Luna Padula nuovo indirizzo di studio per il liceo Pisacane Dal prossimo anno attiva la curvatura di scienze dei dati e intelligenza artificiale Cammino del Negro Cammino del Negro, la comunità montana consegna al Gallo di Diano La segnaletica per il primo cammino turistico del Gallo di Diano Montesano sulla Marcellane, il comune in finale alla diciottesima edizione del premio dei comuni Ben trovati con il nostro appuntamento con informazione di Uno News In apertura la politica e il Consiglio regionale nella giornata di ieri ha approvato la norma che consentirà al governatore De Luca di ricandidarsi per il terzo mandato consecutivo alla carica appunto di Presidente della Regione Una legge che però dovrà fare i conti con gli oppositori partendo proprio dal PD nazionale che pur essendo il partito di riferimento del governatore ha già annunciato la sua indisponibilità al sostegno Vediamo Un Consiglio regionale che ha raccolto l'interesse nazionale quello che si è svolto nella giornata di ieri in Regione Campania dove i consiglieri sono stati chiamati a votare per il terzo mandato per il Presidente della Regione oltre che per altri temi di carattere elettorale quali la soglia di sbarramento per i partiti che da 3% è passata a 2-5% per poter entrare in Consiglio regionale anche se in coalizione Inoltre in discussione anche l'eleggibilità dei sindaci dei comuni campani con popolazione fino a 5.000 abitanti dato che fino ad ora era prevista l'ineleggibilità solo per i sindaci dei comuni al di sopra dei 5.000 abitanti Tutte e tre le novità sono state approvate dal Consiglio regionale anche se in particolare per ciò che riguarda l'ok al terzo mandato che dunque consentirà a Vincenzo De Luca di correre nuovamente per la guida dell'ente regionale non sono mancati in particolare da parte delle opposizioni critiche anche sulla legittimità della norma Contraria alla legge infatti oltre al centro-destra anche il Movimento 5 Stelle con la sola esclusione di Valeria Ciarambino che ha votato a favore Per i consiglieri regionali pentastellati si tratta di una norma che dal punto di vista giuridico presenta diversi aspetti di incostituzionalità perché si andrebbe a negare il principio sancito dalla Costituzione del limite dei due mandati che è autoapplicativo In ogni caso la norma su cui è fondata la nuova legge per garantire il terzo mandato a De Luca non richiedeva il recepimento in quanto già nel 2009 la norma era stata recepita dall'ente regionale Pochi e limitati commenti da parte del centro-destra che ben prima dell'approvazione della legge era già pronta per presentare ricorsi alla giustizia amministrativa cosa che dopo l'esito del voto è stata confermata Non solo il centro-destra regionale ma anche il governo centrale come dichiarato dal Vice Ministro Edmondo Cirielli sarà chiamato ad assumere decisioni che potrebbero portare ad impugnare la legge Cirielli però precisa che dalla Presidenza del Consiglio al momento non emergono elementi che fanno propendere per questa direzione ma se ciò accadrà sarà solo ed esclusivamente dopo attenta valutazione dal punto di vista giuridico L'approvazione della legge per il terzo mandato trova l'opposizione ferma a livello nazionale da parte del Partito Democratico di cui fa parte il governatore De Luca con la segretaria del partito che ha già più volte annunciato e ribadito che il partito non sosterrà alcun presidente che corre per il terzo mandato Persino Bonaccini prende le distanze dal voto di ieri in Consiglio regionale Campano Seppur approvata la legge potrebbe comunque non essere sufficiente per il governatore uscente candidarsi per il terzo mandato La partita resta ancora tutta da giocare Per la cronaca nella giornata di ieri i carabinieri del nucleo antisofisticazione hanno proceduto con la chiusura di un supermercato nella zona di Fratte a Salerno una decisione inevitabile dopo che ai militari nel corso di un servizio di controllo sono apparse evidenti le tracce di sporco ovunque oltre che la presenza di scarafaggi e trappole per topi C'erano trappole per topi e scarafaggi non controllate da tempo sporco pregresso sia sulla pavimentazione che sui ripiani degli scaffali dei prodotti esposti sono le principali criticità che hanno spinto i carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Salerno a chiudere un supermercato della zona di Fratte a Salerno i carabinieri del Nassa a seguito di un'ispezione svolta congiuntamente al personale medico della locale Asl hanno proceduto così alla chiusura ad Oras del supermercato poiché sono state rilevate gravi e diffuse carenze igienico-sanitarie che hanno reso necessaria l'adozione del provvedimento sanitario d'urgenza il controllo ha riguardato tutti gli spazi del market ma nello specifico è stato nell'area cosiddetta dedicata al pet food gli scaffali riservati al cibo ed articoli vari per animali come cani e gatti dove i militari dell'arma hanno scoperto la presenza di trappole per infestanti eroditori non controllate da tempo sporco pregresso sia sulla pavimentazione che i ripiani dei prodotti esposti e mancanza di idonee procedure per la sanificazione e disinfezione degli ambienti è scattata così la chiusura il supermercato molto noto nella zona di Fratte è stato così provvisoriamente chiuso per consentire l'adeguata messa in sicurezza l'esercizio potrà riprendere l'attività ad avvenuto ripristino delle ottimali condizioni igienico-sanitarie strutturali e funzionali l'operazione rientra nell'ambito dei controlli dei NAS sulla sicurezza alimentare che in questi giorni sono stati particolarmente intensificati nella città di Salerno Andiamo ora nel golfo di Policastro sarà il vice prefetto Anna De Luna a ricoprire il ruolo di commissario prefettizio del comune di Ispani per i prossimi mesi in vista delle elezioni comunali lo ha stabilito il prefetto di Salerno Francesco Esposito con apposito decreto che ha ufficializzato dunque lo scioglimento del consiglio comunale vediamo con la nomina del commissario prefettizio per il comune di Ispani si chiude ufficialmente il percorso amministrativo di Francesco Giudice come sindaco lunedì scorso infatti il prefetto di Salerno Francesco Esposito oltre a prendere atto delle dimissioni di sei consiglieri comunali che hanno dunque determinato la mancanza dei numeri necessari per amministrare l'ente comunale ha anche nominato il commissario che dovrà guidare fino a nuove elezioni con il comune di Ispani giovedì scorso 31 ottobre i consiglieri comunali Lovisi per Nicola Ionnito Antonio Alto Monte Antonio Marilinda Martino Milo Francesco e Fragomeno Franco ossia i tre consiglieri di minoranza uno di maggioranza e due consiglieri dissidenti hanno protocollato le loro dimissioni irrevocabili dalla carica di consiglieri comunali portando dunque allo scioglimento del consiglio che è stato ufficializzato con decreto del prefetto Esposito lunedì scorso 4 novembre oltre al decreto di scioglimento del comune di Ispani il prefetto ha anche provveduto a nominare il commissario che sarà il vice prefetto Anna De Luna a pochi mesi dalla scadenza del mandato elettorale dunque Francesco il giudice lascia la fascia tricolore a seguito malumori che si stavano registrando negli ultimi mesi da parte di alcuni consiglieri di maggioranza e che si sono poi trasformati in dimissioni formalizzate nella mattinata di giovedì scorso è stato necessario attendere qualche giorno prima del recepimento da parte del prefetto delle dimissioni in quanto avvenute a ridosso del ponte di Ogni Santi ma lunedì mattina tra le prime azioni svolte dal prefetto è arrivato il decreto di scioglimento del consiglio comunale non si andrà ad elezioni anticipate in quanto nella prossima tornata elettorale i cittadini di Espani sarebbero comunque stati chiamati al voto per scadenza naturale del mandato resta però il disagio di dover proseguire nei prossimi mesi con un'amministrazione curata da un commissario prefettizio un epilogo che è stato commentato dai consiglieri dimissionari eletti nella lista del sindaco decaduto come un esito prevedibile dopo diversi mesi di richieste di cambiamento rimaste inascoltate mentre dall'opposizione sono arrivati attacchi all'amministrazione comunale definita fallimentare parliamo ora di scuola in vista del prossimo anno scolastico per le iscrizioni i ragazzi che frequentano attualmente la terza classe delle scuole secondarie di primo grado potranno recandosi al liceo Pisacane scegliere un nuovo indirizzo l'istituto infatti si prepara con l'ampliamento della sua offerta formativa oltre ai numerosi percorsi di studio già attivi sarà possibile scegliere anche il nuovo indirizzo di scienze applicate con curvatura scienza dei dati e intelligenza artificiale vediamo si potenzia l'offerta formativa del liceo scientifico Carlo Pisacane di Padula che si conferma istituto scolastico all'avanguardia e sempre attento ai progressi scientifici e tecnologici dal prossimo anno scolastico 2025 2026 partirà il nuovo indirizzo di scienze applicate con curvatura scienza dei dati ed intelligenza artificiale andando ad implementare ulteriormente la già ricca offerta formativa che punta a sostenere gli studenti nel loro percorso di studio formandoli anche in base alle loro inclinazioni oltre che alle loro passioni al fine di favorire un approccio al mondo universitario più semplice e con basi stabili che dunque ne renderanno più semplice il percorso di studio una novità assoluta per la parte a sud della provincia di Salerno essendo l'unico istituto di istruzione superiore a cui è stato concesso il nuovo indirizzo un percorso lungimirante e pionieristico per il territorio del Vallo di Diano che prevede un dettagliato piano di studi che si concentra in particolare sulla formazione tecnologica avanzata e sul potenziamento dell'informatica inoltre sono previste attività laboratoriali in collaborazione con altri istituti del territorio oltre che con l'università il percorso di studio prevede anche approfondimenti focalizzati sul metodo di ricerca un piano di studi multidisciplinare anche per l'ingresso del diritto e di economia laboratoriale e seminariale e con formazione sul campo a breve prenderanno il via gli open day del liceo scientifico Pisacane nel corso del quale gli studenti del terzo anno delle scuole secondarie di primo grado potranno confrontarsi con i docenti per meglio approfondire i dettagli del nuovo corso di studi di scienze applicate con curvatura scienza dei dati ed intelligenza artificiale coloro che sceglieranno il nuovo indirizzo acquisiranno competenze significative nell'ambito della robotica della realtà virtuale aumentata della statistica dell'analisi di immagini e video ossia computer vision e dell'elaborazione del linguaggio naturale natural language processing ciò consentirà loro di proseguire nella formazione universitaria potendo contare su competenze già ben radicate in particolare per ciò che riguarda eventuali percorsi di studio in biotecnologie data science internet of things big data machine learning e artificial intelligence oltre che in scienze informatiche e ingegneria informatica un indirizzo che potrà anche contare sul supporto della rete nazionale dei licei scienze dei dati e intelligenza artificiale ampliare la proposta formativa in questa direzione ha dichiarato la dirigente scolastica Marilena Viggiano significa offrire alle nuove generazioni gli strumenti per affrontare il futuro scienza dei dati e intelligenza artificiale sono le nuove chiavi di lettura nell'interazione uomo-macchina andiamo ora a sala Consilina il comune sostiene l'arricchimento dell'offerta formativa dell'istituto Cicerone e organizza il trasporto degli studenti alla pista di atletica del centro sportivo di San Rufo vediamo l'amministrazione comunale di sala Consilina sostiene l'arricchimento dell'offerta formativa dell'istituto di istruzione superiore Cicerone il comune ha infatti organizzato il trasporto degli alunni reso così possibile la loro partecipazione sulla pista del centro sportivo di San Rufo alla fase pratica del progetto PNRR No One Left Behind finalizzato a promuovere e diffondere la pratica dell'atletica leggera tra i giovani il progetto ha preso il via martedì 15 ottobre con un primo incontro tenutosi nella palestra dell'ex liceo classico dove gli studenti hanno avuto l'opportunità di familiarizzare con tecniche fondamentali legate alle corse ai salti e ai lanci la seconda fase del progetto è iniziata martedì 28 ottobre trasferendo l'attenzione alla pista di atletica situata a San Rufo qui gli studenti potranno approfondire le tecniche di diverse specialità dell'atletica leggera grazie ad un programma intensivo che si svolgerà per due settimane la partecipazione degli studenti alla fase pratica sulla pista di San Rufo precisano dall'ente comunale e dunque resa possibile grazie al sopporto dell'amministrazione che ha organizzato il trasporto degli alunni fino al centro sportivo questa collaborazione dicono ancora dall'amministrazione comunale dimostra l'attenzione verso l'educazione fisica e il benessere dei giovani incoraggiando la formazione sportiva come parte integrante dello sviluppo educativo dei ragazzi del Cicerone con questa iniziativa concludono dall'ente si conferma l'impegno dell'amministrazione comunale a garantire opportunità di crescita e apprendimento per gli studenti ampliando l'offerta formativa dell'istituto con attività che stimolano la partecipazione e l'inclusione in linea con gli obiettivi del PNRR ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità torniamo tra pochissimo restate con noi lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno Banca Montepruno fondata sul bene comune ben tornati con la seconda parte del nostro TG parliamo di turismo il Cammino del Negro primo percorso turistico outdoor del Vallo di Diano inizia a prendere forma attraverso l'installazione della segnaletica di servizio nella giornata di ieri la comunità montana Vallo di Diano ha consegnato al GAL Vallo di Diano la segnaletica da apporre lungo il Cammino del Negro vediamo il Vallo di Diano può esprimere il meglio di sé soprattutto in campo turistico grazie anche alla grande varietà di offerta che può vantare oltre ai luoghi di culture storici del territorio la ricchezza dal punto di vista del settore no gastronomico non si può dimenticare le potenzialità ancora inespresse ma dalle grandi prospettive che può riguardare in particolare il turismo outdoor ossia il turismo che si concentra prevalentemente su iniziative all'aperto e percorsi trekking e naturalistici nell'ottica dunque di potenziare anche questo ulteriore settore del turismo comunità montana Vallo di Diano e GAL Vallo di Diano uniscono le loro forze puntando come inizio sul potenziamento del Cammino del Negro un tracciato ad anello di circa 145 km che segue il percorso dell'antico fiume Negro oggi fiume Tanagro tra Cilento Vallo di Diano e Basilicata nella mattinata di ieri l'ente montano nella persona del presidente Vittorio Esposito ha consegnato alla presidente del GAL Vallo di Diano Angela Adalto la segnaletica di servizio per il primo cammino turistico del Vallo di Diano ossia il Cammino del Negro un primo passo che segna anche l'avvio del protocollo di intesa sottoscritto dai due enti finalizzato proprio alla promozione del turismo Odor nei prossimi mesi dunque si procederà con l'installazione della segnaletica del cammino e sarà implementato il piano di manutenzione continuiamo la sinergia tra gli enti comprensoriali sottolinea il presidente della comunità montana Vittorio Esposito e puntiamo allo sviluppo della mobilità lenta migliorando la qualità e la sicurezza dei nostri sentieri guarda già i prossimi obiettivi la presidente del GAL Vallo di Diano Angela Adalto che a margine dell'incontro ha sottolineato i prossimi passi vedranno gli enti collaborare sulla promozione e sulla realizzazione di contenuti e mappe cartografiche dei tracciati e vedrà il GAL donare ai comuni richiedenti idonea segnaletica per valorizzare i propri sentieri si punta dunque per il turismo all'aperto sul Cammino del Negro che si sviluppa per 145 chilometri divisi in 12 tappe attraversando 15 suggestivi borghi da Sanza come ideale luogo di partenza passa per tesori naturalistici ed architettonici quali il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano al Burni la Certosa di San Lorenzo a Padula le Grotte di Pertosa e Auletta consentendo a chi sta percorrendo il Cammino di San Nilo di proseguire verso nord in direzione Grotta Ferrata Il Comune di Montesano sulla Marcellana è in finale per la quarta volta al Premio dei Comuni Virtuosi giunto alla diciottesima edizione vediamo Il Comune di Montesano sulla Marcellana è in finale alla diciottesima edizione del Premio dei Comuni Virtuosi promosso dall'Associazione Comuni Virtuosi con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Ispra Borghi Autentici d'Italia e Amodo lo rende noto il Sindaco Giuseppe Rinaldi precisando che con grande orgoglio il Comune è in finale per la quarta volta dopo il 2016 2017 e il 2023 il premio spiega il Sindaco la cui cerimonia conclusiva quest'anno si terrà a Carmignano in Toscana è rivolto alle iniziative di particolare rilevanza e attualità delle amministrazioni locali ed è patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e dal Lanci solo 72 progetti sono giunti alla fase finale su oltre 250 presentati spiega unico comune a sud di Battipaglia con cui solo le due nostre comunità rappresenteremo l'intera provincia salernitana il primo cittadino precisa poi che è una grande soddisfazione ritrovarsi in finale in questa competizione nazionale che dice serve a diffondere le buone pratiche amministrative e chiaramente rappresenta una vetrina importante per Montesano e se posso dice Rinaldi per l'intero Vallo di Diano l'amministrazione comunale quest'anno ha presentato alla giuria una relazione sul progetto Montessa volto alla valorizzazione della patata di Perillo con relativo ricettario ricordando i primi dati entusiasmanti sulla raccolta diffusi poche settimane fa a Perillo di Tardiano il sindaco ringrazia il CREA i nostri produttori dice i nostri contadini le nostre donne della raccolta i nostri giovani chi ci crede e con calma sta vedendo i risultati e se questa iniziativa che proseguiremo con passione impegno è piaciuta a livello nazionale conclude il sindaco Rinaldi siamo ne tutti orgogliosi perché quando si apprezza un'idea della comunità si apprezza ogni componente della comunità ed era questo l'ultimo servizio di oggi io vi ringrazio per averci seguito vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi a livello nazionale